Opla! Oggi vedremo insieme la seconda maglia del PSG per la stagione 22-23 nella versione FUN, quella dedicata ai tifosi. Dimenticavo, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete i dettagli, se il video vi piace mettete un like, ci vediamo dopo! Con la maglia da trasferta PSG 2022-23, il club continua la sua associazione con il marchio Jordan. L'ultimo design dei campioni, la Ligue 1, rende omaggio alla casa del PSG, lo stadio Parco dei Principi, che celebra il suo cinquantesimo anniversario. La maglia da trasferta Jordan PSG 2022-23 introduce un nuovo look in grigio con una striscia centrale nera che sfuma al centro per fare spazio allo sponsor Qatar Airways. All'interno del colletto è presente un'etichetta speciale. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica, un ulteriore passo di Nike e del club, verso una produzione più sostenibile e attenta all'ambiente. La maglia del PSG ha sempre un fascino molto grande. Questa, devo dire la verità, non l'ho ancora inquadrata benissimo e per ora nella mia classifica prende solo tre stelle. Sono in attesa che arrivi anche la versione player, mi riservo di poter cambiare opinione. Per il momento mi piace, ma di fatto questo grigio ancora non l'ho capito bene bene. È comunque la maglia di Messi, di Mbappé, di Neymar, quindi voglio dire una maglia che dovete avere. Qui in alto vedete il prezzo per una maglia che è fatta benissimo, perfetta in ogni dettaglio, voglio dire non resta che mettere alla prova il sito. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e un link per ottenere un buono da 3 dollari da poter utilizzare sul sito. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vendete la vestibilità, io spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale per vedere altre recensioni in futuro. Fatemi sapere se condividete la valutazione che ho dato e quali altre recensioni vorreste vedere in futuro. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media, della versione Fan.